ma bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e adesso oggi cosa vi parlerò del Napoli come tutti sapete io adoro il Napoli perchè è la mia vittima preferita no oggi siamo capiti il Napoli del Napoli appunto e volevo dirvi questa cosa ma non so se è vera cioè non so se più che altro va bene allora verso Arsenal-Napoli allora io avevo riscritto una partita molto molto difficile adesso che si giocherà ad Arsenal giovedì domani quindi Arsenal-Napoli e niente io vi saluto ci diamo domani cioè oggi ho mantenuto i due contenuti e con la Champions che pensato a favore adesso è zero perché io ti ho preso adesso è zero adesso è zero grazie a tutti